Ci siamo ragazzi, centro storico di Napoli, insomma un posto che noi napoletani amiamo ma è lo straniero esce pazzo, non soltanto per il presepere, insomma per le librerie storiche, ma soprattutto perché? Perché si mangia bene. Vi invitiamo a fare un motore di ricerca stasera, cosa dovete cercare? L'università! Ragazzi sono preparati, maestre 10! Ma che facciamo, rifiutiamo? E mi ci tuffo dentro! Il babà è soltanto una delle prelibatezze che troverete a Napoli. Calamari, gamberetti, zeppoline e alici, ragazzi non manca niente. Eh sì ragazzi, perché Napoli non è soltanto sport ovviamente, è cultura, tradizione, educazione. Chissà, magari a Natale sarò su qualche presepere. Da Piazza San Domenico una sola parola, qual è? Univestivate! Sono particolarmente indeciso, eh sì, perché quando cammini c'è la famosa pizza a portafoglio che adesso veramente vi presento. Univestivate!